Tuino, parlami del tuo record di questo anno, che record è stato? Che ho quasi trovato il petrolio del serbato, un po' l'ho sondato le varie cose, nuova risorsa, Petro Bras, lavori per la Petro Bras, senti e invece mi dicono che la tua amica ha fatto un buon risultato quest'anno, come si chiama questa amica? Una moglie? Una moglie? Ma tu lo ami pure se è vovato più di te? Eh beh sì, sono molto contento per lei. Per lei? Vai chiamala, chiamala. Eh Nicole, vieni. Nicole. Vai vai, filma. Chiamala, chiamala Nicole. Devi venire qua. Devo venire lì. Per la cronaca Arduino è nero, sta ben arrabbiato dei voli. La Nicole invece è tutta radiosa, è tutta felice. Un po' più felice dei giorni scorsi. E subito ancora di più, guarda. Ah, andiamo a festeggiare qui, eh?